A Ciaieri d'Italia sono ora decisive sindacati convocati lunedì a Palazzo Chigi, trattative ancora in corso tra i due soci per tentare di evitare l'amministrazione straordinaria. Morselli in audizione in Commissione Industria e in Senato, il problema di questa azienda è la liquidità. Eusider rileva il 100% di profil tubi e OMV dal fondo tedesco Autus, 200 milioni di euro il fatturato consolidato delle due realtà. Anghileri continua il processo di crescita e verticalizzazione del gruppo. Eurofair ancora un anno prima del segno più, consumo reale al palo anche nel 2024 con un meno 0,4%, bene l'apparente dato in aumento dell'1,3%. Prezzi sul mercato nazionale generale marcia indietro nell'ultima settimana, secondo la rilevazione di Siderweb. Buongiorno e benvenuti alla Siderweb TG. Sono ore decisive per il futuro di Acciaierie d'Italia, mentre socio pubblico e privato continuano a trattare per scongiurare l'amministrazione straordinaria. Il governo ha convocato per lunedì a Palazzo Chigi i sindacati metalmeccanici. Ci aggiorna da Taranto il nostro corrispondente Gianmario Leone. Potrebbe essere la prossima, la settimana decisiva, per capire quale futuro ci sarà per l'ex silva di Taranto oggi a Acciaierie d'Italia. Lunedì 19 è infatti in programma un incontro tra i sindacati metalmeccanici e il governo, dove ci sarà un aggiornamento sulle trattative che sono ancora in corso tra i due soci per cercare di evitare l'amministrazione straordinaria, che è l'ultimo atto estremo a cui ricorrerà il governo, qualora tra i soci non ci dovesse essere un accordo anche di separazione in bonus, ovvero di una liquidazione con una quota minoritaria per essere un metal, con lo Stato che solo temporaneamente, in attesa poi di bandire una nuova gara e di trovare un nuovo socio privato, avrà la maggioranza delle quote societarie. Come detto dunque, i sindacati da un lato e tutte le aziende dell'indotto dall'altro sperano che fino all'ultimo si possa scongiurare l'amministrazione straordinaria, che di fatto altro non sarebbe che portare a liquidazione e quindi a fallimento la società, il che ricadrebbe inevitabilmente su tutte le ditte dell'indotto, che perderebbero decidi di milioni di crediti, di fatture scadute o in scadenza nei prossimi mesi nei confronti di accedere d'Italia, ricadrebbe sui lavoratori stessi dell'indotto, ma anche sui lavoratori diretti di accedere d'Italia, per molti dei quali probabilmente si apirebbero le porte della classe integrazione, almeno per un anno, fino a quando non ci dovesse essere una nuova soluzione dell'avvertenza. Dunque si resta in attesa di capire cosa accadrà nei prossimi giorni. Le trattative sono in corso, i due soci si stanno parlando quotidianamente, la speranza di tutti è che non si ricada nuovamente in un limbo e quindi non si ritorni nuovamente indietro, come accade invece già nel 2015. Anche perché poi si dovrà capire se, per il siderurgico di Taranto, che ricordiamo è il più grande d'Europa e a cui sono legati gli stabilimenti di Genova, di Novi, di Racconigi, di Milano, di Paderno, di Salerno, di Marghera, oltre a tutta una filiera che l'Ilva continua a servire, bisognerà capire se poi per l'acciaio italiano, in particolar modo per la produzione dei piani, ci sarà effettivamente un futuro da traguardare nei prossimi anni con la famosa transizione, quindi con la parziale o totale decarbonizzazione della fabbrica, oppure se si chiuderà definitivamente, in maniera profondamente mesta, il capitolo della siderurgia italiana. Gianmario Leone, Taranto. E intanto nei giorni scorsi l'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia, Lucia Morselli, è stata ascoltata in Commissione Industria del Senato sul decreto, sull'amministrazione straordinaria delle imprese strategiche. Il problema di questa azienda, ha sottolineato, è la liquidità. Il problema di questa società non sono gli strumenti per la crisi, che possono essere l'amministrazione straordinaria o quello che stiamo usando noi, che è il più semplice in assoluto, che è la composizione negoziata. Il problema di questa azienda è la liquidità. So che i soci stanno lavorando ancora adesso per cercare una soluzione in accordo fra gli stessi, perché l'obiettivo principale non è cacciare Arsene Ormitallo, cacciare Lucia Morselli. Il problema è capire cosa si vuole fare di questa azienda. Fino a questo momento l'azienda non ha avuto una disponibilità finanziaria adeguata, intendo dal sistema finanziario, quindi dal mercato finanziario. È un motivo molto semplice, perché è soltanto un'azienda che affitta e il nostro affitto scade tra tre mesi. Abbiamo chiesto come azienda più volte aiuto ai soci, credo che vi sia stata anche la stampa di grande aiuto in questo periodo, per coprire questo fabbisogno, quindi da settembre sicuramente, che ci consentisse di fare diventare questa azienda un'azienda normale, cioè un'azienda che possiede gli impianti che usa. Quindi di fatto il debito vero di questa società è un po' meno di 700 milioni, una società che fattura 3 o 4 miliardi, di cui è scaduto solo la metà. La sostanza è che soltanto il 18% di questi 3 miliardi è un debito scaduto. E anche della situazione finanziaria di Acciaierie d'Italia abbiamo parlato a Siderweb On Air, il nostro evento live centrato sulle domande dal pubblico. A rispondere il professor Gianfranco Tusini, storico componente dell'ufficio studi Siderweb e profondo conoscitore della siderurgia nazionale ed europea. Il rapporto patrimonio immobilizzazione è 0,29, che è il valore più alto dell'indice. Vuol dire che a fronte di 100 capitali immobilizzati o immobilizzazioni i mezzi propri dell'azienda ne coprono neanche il 30%, quindi vuol dire che veramente è un'azienda che avrebbe bisogno di risorse a lungo termine per finanziare gli investimenti a lungo termine. Il break-even in una situazione normale, cioè non di margini estremamente elevati come è stato il 2021 e in parte anche il 2022, deve produrre almeno 6 milioni di tonnellate sotto sicuramente è difficile. Ma di fatti nel business planning industriale che Arsene Ormita l'aveva presentato, di fatto l'obiettivo era di arrivare entro il 2025 a 7 milioni, 6 milioni di tonnellate e con quei volumi a margini diciamo normali l'azienda sarebbe arrivato oltre il break-even. Però oggi non siamo in quella situazione. Poi c'è il problema della liquidità da risolvere. Il problema della liquidità lo vedete nell'ultimo indice 0,55, 0,58, 0,51. Qualora la serie d'Italia dovesse restituire, cioè pagare tutti i debiti a breve, non potrebbe farlo senza smobilizzare una buona fetta di scorte, il che vuol dire far morire l'azienda perché se io non ho scorte non riesco a soddisfare la domanda. E lo smobilizza è pesantissimo perché parliamo di un 50-200. Il prossimo appuntamento con il webinar di Siderweb sarà martedì 20 febbraio dalle 11 con acciai speciali a quando la ripresa. Nella prima parte Stefano Ferrari, ufficio studi Siderweb, presenterà i dati relativi al settore nazionale dei prodotti lunghi in acciaio speciali e sull'andamento dei prezzi delle materie prime e definiti. Nella seconda parte del webinar Davide Lorenzini, in redazione Siderweb, intervisterà Roberto De Miranda, Ori Marten e Stefano Scolari ABS su temi strategici e congiunturali. E come sempre la partecipazione è del tutto gratuita. Basta iscriversi nell'area eventi webinar di Siderweb oppure dall'app Siderweb 20. E proprio a proposito di ABS, l'azienda ha annunciato un piano ambientale da 572 milioni di euro per tagliare il 30% di CO2 entro il 2030. Vediamo i dettagli. Un piano di sostenibilità da 572 milioni di euro con sei progetti che puntano a ridurre le emissioni di CO2 del 30% entro il 2030 e a raggiungere la neutralità carbonica. al 2050 è quello annunciato da Acciaierie Bertoli Safau. Il piano, ha spiegato il produttore friulano, comprende interventi di efficientamento degli impianti con una riduzione dell'intensità di emissione di gas effetto serra pari a meno 23 kg di CO2 tonnellata. Circa metà degli investimenti sarà realizzata entro il 2026 con il Digital Green Plant, la nuova linea che permetterà la produzione di circa 700 mila tonnellate all'anno di prodotti a bassa emissione di CO2. Il cuore della linea sarà il nuovo forno digitale chiuso e automatizzato, alimentato dal sistema Q1 di tecnologia Danieli e supportato da intelligenza artificiale. Sul piano dell'energia, ABS prevede una differenziazione delle fonti, integrando l'attuale fornitura di energia elettrica con l'autoproduzione da fotovoltaico, con l'installazione di pannelli fotovoltaici per una capacità di 16 MW picco e attiva anche una sperimentazione dell'uso di idrogeno verde. E ora a Terni, dove Acciai Speciali Terni ha comunicato alla RS1 una nuova fermata di una delle linee a caldo. La necessità di uno stop della produzione di circa 8 giorni per uno dei forni deriva da uno scarico produttivo. La fermata del forno 4, salvo nuove comunicazioni, sarà da mercoledì 21 febbraio alle 14 e nello stesso giorno alle 22 fermeranno anche le linee collegate. La produzione riparterà giovedì 29 febbraio con orario che sarà comunicato poi nei prossimi giorni. Anche questa volta, come accaduto a gennaio, non sarà attivata la cassa integrazione, ma il personale interessato sarà gestito sulla base della volontarietà. Restiamo sul mercato nazionale, ma passiamo ai piani in acciaio al carbonio e tubi saldati e Usider ha annunciato che rileverà profil tubi. Ci aggiorna Davide Lorenzini. Nuovo tassello nel puzzle di crescita e diversificazione del gruppo Usider. L'azienda ha infatti ufficializzato in settimana di aver perfezionato l'acquisizione del fondo tedesco Autocapital Partners del 100% di profil tubi di Leggiolo e della sua controllata OMV Ventura di Lesmo. Due realtà storiche del mercato dei tubi saldati per la loro specializzazione nei tubi strutturali di alta gamma e in quelli di precisione destinati all'automotive, con un fatturato consolidato di circa 200 milioni di euro. Con questa operazione, ha spiegato il CEO del gruppo Usider e Ofrasio Anghileri, continua il nostro processo di crescita e verticalizzazione. L'acquisizione di profil tubi e OMV Ventura è strategica in quanto ci permette di completare la gamma offerta ai clienti e al contempo di incrementare significativamente i volumi di cose che acquistiamo, permettendoci di migliorare ulteriormente le nostre economie di scala. Nell'intervista rilasciata a Sideron, Anghileri ha anche anticipato che l'azienda nel 2023 è riuscita ad accrescere del 3% i volumi di vendita, mantenendo il fatturato ad un miliardo di euro, nonostante la flessione delle quotazioni sul mercato. Responsabile del gruppo profil tubi nel ruolo di presidente è stato confermato invece Giorgio Frigerio, che ha espresso la propria soddisfazione per le opportunità di crescita e sviluppo offerte dall'ingresso nel gruppo Usider. E Usider che, mentre si sta impegnando nell'integrazione delle nuove realtà, guarda l'internazionalizzazione e dà la possibilità di crescere nell'Europa centrale. Prezzi dei finiti ancora in difficoltà sul mercato italiano dell'acciaio, 17 dei 28 prodotti finiti analizzati dall'ufficio studi Siderweb con la sua rilevazione settimanale mostrano una riduzione rispetto alla settimana precedente. Il Carbon Steel Index è quindi sceso dello 0,71%, stabile lo Stainless Steel Index con un meno 0,02%, controcorrente lo Scrap Index che si muove di poco ma in salita con un più 0,08%. Per tutti i dettagli basta consultare all'area prezzi di Siderweb.com. E prima di chiudere un aggiornamento sull'ultimo Outlook sul mercato europeo di Eurofair, secondo l'Associazione dei produttori, la ripresa della domanda è rimandato di un altro anno. Arianna Duccoli. Nell'ultima edizione dell'Economic and Steel Market Outlook, Eurofair prevede che il consumo reale di acciaio in Europa non si riprenderà nel 2024. L'Associazione si aspetta una diminuzione dello 0,4% rispetto al 2023, con la parte centrale dell'anno in positivo e primo e quarto trimestre in contrazione, mentre per il 2025 si preannuncia una ripresa al più 1,3%. Il calo del consumo reale è conseguenza della stagnazione dei settori utilizzatori. L'Associazione dei produttori siderurgici europei ha infatti comunicato il forecast per il 2024, più 0,2%, dato principalmente influenzato dal rallentamento del settore delle costruzioni. Proprio le costruzioni, insieme alla meccanica, sono i settori che riportano segno meno, in crescita invece elettrodomestici, tubi ed altri mezzi di trasporto. Per quanto riguarda invece il consumo apparente di acciaio, Eurofair per il 2024 stima un aumento del 5,6% rispetto al l'anno precedente, segnando una ripresa dopo 4 cali negli ultimi 5 anni. Per quanto concerne il commercio estero di acciaio nell'Unione Europea, nel 2023 il deficit della bilancia commerciale si è ridotto a 1,5 milioni di tonnellate al mese, mentre considerando solo i prodotti finiti, il deficit mensile è stato 941 mila tonnellate. Le importazioni totali di acciaio sono diminuite dell'11% nei primi 11 mesi del 2023 ed i maggiori partner commerciali sono stati India, Corea del Sud, Cina, Vietnam e Taiwan, paesi da cui l'UE acquista il 58% del totale dell'acciaio in entrata. Cala, sebbene misura minore, anche l'export di prodotti siderurgici, che nel periodo gennaio-novembre registra un meno 3% sullo stesso periodo dell'anno precedente. I maggiori acquirenti dell'acciaio UE sono stati Regno Unito, Turchia, Stati Uniti, Svizzera ed Egitto e tra quest'ultimi solo l'Egitto ha aumentato i volumi acquistati in Unione. Per quest'oggi è davvero tutto, l'appuntamento torna puntuale venerdì prossimo, arrivederci a tutti!